Il volo che effettueremo oggi sta dalla Mezzia Terme a Taranto. In questo volo sorvoleremo anche il Parco Nazionale della Sila. Oltre ad essere un parco nazionale ovviamente c'è una catena montuosa diciamo abbastanza importante per poi proseguire verso il Golfo di Taranto. Sorvoleremo per intero il Golfo di Taranto, qui possiamo vedere un'immagine sia dell'aeroporto internazionale di La Mezzia e atterreremo nell'aeroporto di Taranto Grottaglie. Sorvoleremo anche Taranto, riusciremo a vedere questa parte qui con i due mari di Taranto, in mare piccolo e mare grande. Speriamo che sia un volo sufficientemente spettacolare. Siamo quasi pronti. Scusi eravamo agliadati noi. Buongiorno. Flappola. Grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo costato un altitudine di 10.000. Eccoci, sto stiamo a 11.000 metri. La velocità di 298 possiamo aumentare fino alla velocità utile. Qualche nuvoletta... Qui vediamo il mar Turreno in fondo. E qui ecco il mare Adriatico con il Golfo in Talento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo per lasciare la Calabria per entrare in mare. Grazie a tutti. 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 Ok questo volo è terminato. Ci vediamo al prossimo. Ciao.